Per qualcuno la montagna avrà partorito il classico topolino, per qualcun altro sarà stata sicuramente la scelta migliore. Fatto sta che dopo un mese di tira e molla, contatti, incontri, sondaggi con vari allenatori, la fumata bianca è arrivata e Giovanni Zichella siederà sulla panchina del Teramo anche nella prossima stagione. Conferma dunque per il tecnico un richiamato a maggio, dopo l'esonero di gennaio dell'intero staff di Asta, di cui era il vice, per guidare la squadra nell'ultima di campionato contro la Reggiana, dopo l'esonero di Ottavio Palladini. Gara che poi, grazie all'intervento successivo della giustizia sportiva favorevole al Teramo, contribuì alla salvezza diretta dei biancorossi. Zichella, grazie a quella dimostrazione di attaccamento, si è guadagnato la considerazione del presidente Campitelli e dei suoi collaboratori, che pure, va ricordato, hanno atteso fino all'ultimo la decisione di Giacomo Modica, prima scelta per la panchina, ma troppo indeciso tra la proposta biancorossa e quella del Messina. Non c'era più tempo da perdere per iniziare a programmare la prossima stagione. Ieri l'incontro risolutivo e la firma sul contratto del 54enne allenatore originario di Cerignola, mattorinese di adozione. Un'occasione irripetibile per l'ex secondo di Asta, che in carriera ha già avuto la responsabilità tecnica di alcune squadre, ma solo una volta in Lega Pro, nell'allora seconda divisione, sulla panchina del Valle d'Aosta 2012-2013, condotto alla promozione dopo due anni in D. Poi ancora se ridì con il Chieri, prima di entrare nello staff di Asta nella Feralpi Salò. In precedenza anche tanti anni di settore giovanile nella grande cantera del Torino, aspetto che potrebbe favorire l'inserimento nella prossima rosa del Teramo di tanti giovani. Perché adesso, sciolto il nodo allenatore, si apre il mercato. Il DS Sandro Federico, in raccordo con la società, dovrà costruire una squadra sulla base di un modulo che in partenza sarà il 4-3-3 o 4-2-3-1, ma capace di cambiare in corsa, passando anche al 3-5-2. Uno dei nomi più caldi è quello di Luca Di Renzo, 28 anni, capo cannoniere del girone A di serie D, con 20 gol in maglia a prosesto, già protagonista di un'ottima stagione con Zichella nel Chieri. Potrebbe rientrare nei piani anche il centrocampista Mattia Proietti del Pescara, 26 anni, ex Bassano.